italiano flip and classroom su gabriele d'annunzio vita e poetica in generale gabriele d'annunzio rientra nella corrente del decadentismo vuole fare della sua vita un'opera d'arte spende e viene sommerso dai debiti spende molto denaro viene richiamato dal governo italiano mentre si trovava all'estero scrive opere patriottiche per incoraggiare gli italiani ed animare il fervore per la patria unisce due figure esteta e superuomo che di solito sono separate esteta l'esteta rappresenta l'eleganza e la raffinatezza il superuomo rappresenta un essere superiore alla massa un essere che comunque si sente superiore alla massa per d'annunzio il diritto di voto dovrebbe essere una prerogativa esclusiva della società elitaria e istruita pensiero in netto contrasto con l'allargamento del suffraggio universale maschile del governo giolitti secondo d'annunzio la società elitaria si pone in netto contrasto con la società di massa la società elitaria è colta parla un linguaggio forbito ama la raffinatezza e il gusto tutte caratteristiche che secondo d'annunzio la società di massa non possiede d'annunzio è stato uno sperimentatore all'eccesso e lo fa per distinguersi dalla massa ricordiamo un romanzo in particolare il piacere dove il protagonista è andrea sperelli nobile le cui vicende si intrecciano con due donne elena che rappresenta la sensualità elena è sensuale e attraente e maria che rappresenta la purezza maria è pura e casta i superuomini di d'annunzio sono superuomini in diversi campi nell'arte nella scienza e nella letteratura pertanto non vi è un solo contesto il superuomo spazia in diversi ambiti ma i superuomini hanno un denominatore comune sono tutti estremamente concentrati su se stessi